piano piano senza prendere la pianta piano piano cazzo effettivamente si aveva ragione il vito che è pieno di foglie di là è come diceva il dito è la prima radicetta quando fai la prima radice passa giù davanti poi passi giù a missile se sbagli in fondo ti ammazzi effettivamente non è bellissimo perché c'è dentro le due s sono struttile però si fa anche di là io scendo di qua mi provo che sei metropodiccio ma stai su a sinistra a zero qua mi viene addosso però a zero bravo Vito quello che vuoi andiamo a scendere di là dobbiamo scendere a bordo e poi gli dà del tronco andiamo giù la stana la teleferica prima o dopo lo facciamo anche questo rotti maroni anche sto cazzo di cosa adesso togliamo e poi andiamo a scendere e poi e poi e poi e poi Sì, secondo me togliamolo via. Sì, secondo me.